e benvenuti in questo video di Manfredo Manfredo e oggi non mi vedete dove sono sempre seduto perché ho fatto un intervento al dente e sono nella stanza di mia madre sul letto e oggi ho comprato l'album della Juve e ho anche quello dell'Inter e del Milan ho già sfogliato l'album è bellissimo e ora andremo a spacchettare questo bellissimo pacchetto già ho aperto perché ho fatto una clip prima ma si cancellò ma non ho ancora aperto manco un pacchetto a alcuni giorni fa ho comprato queste figurine e niente adesso aprirò questo pacchetto e andiamo a vedere dai ci sta guardate che ho trovato subito qua non so chi sia ma vabbè delict e Juventus giovanile e Juve crotone e quello di prima ora secondo pacchetto allora e qua non so cosa sia qua già ho trovato questo del doppione e Juventus e poi questo la maglia e la Juve è bello 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 vero e poi comunque ragazzi ci sono le card da quest'anno in alcun tipo Inter, Juve, Milan questo l'ho trovato prima questo l'ho trovato questo no questo no questo è la card di Bernard Eschi allora comunque raga se voi tipo pensate eh ma perché compri la Lune della Juve se sei milanista raga io li compro per collezione eh Kulusevski e Quarinato Aleksandro mi stavo emozionando eh quello già questo l'ho trovato e Pullman non so Pullman Pullman mi sa no e Stadio ultimo pacchetto eh andiamo ehm ehm allora ehm e Ranshey la maglia quella assoglia quella del Palermo ma vabbè eh questo Bernard Eschi e niente e niente raga il bio finisce qui un secondo prima freddo e niente alla prossima anzi iscrivetevi su Antrimanfri e Rosso Sangue e Palermo e Manfredi e Palermo Calcio ciao ciao ciao